come stavo dicendo questa è un'attrezzatura per il peso basta allenarsi per essere sani e forti questo è l'allenamento per le gambe per prima cosa basta te come me dovete posizionarvi i piedi uno alla volta poi andate l'altro come fate come me viense a fermarsi questo è per l'allenamento per le gambe e le spalle vi faccio vedere come si fa una cosa mettete un piede così e l'altro andate avanti fate così fate fate